E fai l'attaccante, il difensore, il centrocampista o l'allenatore, fai il ricco dirigente, il polo panchinaro, il guardaline e il massaggiatore, perché lo fai? E fai la formazione, fai la sostituzione, qualche volta ingovini, a volte sbagliato, e fai il mental coach, e fai il presidente, la pasta in saletta, la birra scaduta, perché lo fai? Perché non te ne vai? Amatori barcazzi, un vecchio che balla, l'ignoranza che avanza, e tutta una squadra che suona che balla, per un calcio diverso, ma però il tempo perso, è il trister se rompe i coglioni, è il mister che vince se sbagli, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori. Nella gita in barca, nella coppa cobre, torneo di food gold, la piastra del soncio, la taverna del mancia, la taverna dei bozza, la cena al petronea, la festa al murao, perché lo fai? E fai di golisti, giocavo con Piri, chi vende sabate, frisonsio nei bonghi, i simili portieri, il sostituito, l'ex professionista, il bomber finito, perché lo fai? Perché non te ne vai? Amato in barca, un petto che balla, l'ignoranza che avanza, e tutta una squadra che suona che balla, per un calcio diverso, ma però il tempo perso, è il trister se rompe i coglioni, il mister che dice se sbagli, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori. Sì, vivere per allenare, o allenare per vivere, fare schemi senza pensare, parlare sempre e non ascoltare, ridere non fa mai male, fare pace e poi bestemmiare. O per 40 sì, si può fare, amatori in vacanza, un vecchio che balla, l'ignoranza che avanza, e tutta una squadra che suona e che cava, per un calcio diverso, ma però il tempo perso, è il gusto che ha rotto i coglioni, e il mister che dice se sbagli, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori. Sì, vivere per un calcio diverso, è fuori, sei 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 fuori, sei